Ciao a tutti amici di Marvel's Fida dei Campioni, ben ritrovati, eccomi qui sono Tarkovs. Dunque oggi voglio farvi vedere un pochino come sta andando la missione a Q5 della mia alleanza. Purtroppo come vedete non molto bene, rimangono appena 40 minuti e siamo ancora parecchio indietro. La vedo dura, la vedo difficile, ho paura che non riusciremo a finirla. Ora facciamo due colpi qui a questo simbionte per farvi vedere, scusate, un po' di tosse. Quanto sono agguerriti e cattivi questi simbionti di A5, ma con Capitano America io non ho paura di niente. Vado e gli spago la faccia. Pari e attacchi. Pari e attacchi. Scrivi. Pari e schivi. E vabbè, non para più. Pari e vinci. Andiamo avanti. Ho due passi, avevo due passi, ora ne ho uno. Vediamo il prossimo. Ah, un talento. Beh, contro un talento ci mandiamo chi? Un altro talento. Anche perché non ho altro. Ho perso Iron Man superiore contro i minibossi Ciclope. Uno dei due però. Uno l'ho fatto fuori. Ah, vedo la nera. Cattiva. Tanto cattiva quanto bella. State attenti a non farvi pizzicare. La disgraziata, ecco. E vado pure. Vado una città. Vado un po' in lina contro di me, baby. Perché io sono Darkrox. Stordita. E' il classico Rango 5. E' la cosa più bella che mi poteva capire. Occhio alla 3. Non c'è problema. La scarica subito. E' la fin. Basta. La faccio finita. Ti lascio. C'ho un'altra. Eh, sì. 39 minuti allo scadere del tempo. Siamo fermi qui. Se entra 50 minuti o il prossimo passo. Avvio, core. Sì, sì. Chi non si completerà questa missione. Peccato. 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 Eh. Comunque, amici di Marvel Sfida dei Gampioni, amici di Darkrox, questo video oggi è dedicato a voi. Infatti voglio ringraziarvi perché il canale Darkrox Marvel Sfida dei Gampioni ha raggiunto 100 iscritti. Non sono tanti, però è comunque un traguardo e va festeggiato. Quindi, ricapitolando, voglio regalare 100 unità a uno di voi. Come potete vincere queste 100 unità. Dovete commentare questo video. Mettete innanzitutto il nome del gioco Marvel. Il vostro nome del gioco Marvel. Io poi sorteggerò uno di voi. E gli regalerò 100 unità. Avete tempo fino al 5 aprile? Dateci sotto, commentate e vediamo chi è che si accaparrerà queste 100 unità. Al prossimo video e buon divertimento. Ciao a tutti! Ciao a tutti!